Giulio, posso fare una domanda in italiano? Sì, puoi. Cosa dice Ryan a voi cerca MLS, in particolare la qualità di questo campionato? Inizio in italiano? Allora, quando ho parlato con lui lui mi ha detto che era una situazione buona per me che venivo e che avevo l'opportunità di giocare. Penso che io non ho parlato tanto con lui della Liga, però adesso avrò un po' di tempo per conoscere bene. Tutti pensano che io giocherò qua fino al Mondiale perché sono venuto per giocare soltanto il Mondiale, ma non è vero. Io sono venuto per imparare la MLS League e giocare, chiaro, e voglio vincere qua. Penso che da dove vado io vado sempre per vincere, no? E penso che dopo il Mondiale io ho fermato un contratto qua fino al 31 dicembre. Allora penso che dopo il Mondiale avrò l'opportunità di tornare qua e di continuare a lavorare insieme a Ryan in Toronto e cercare di vincere. Prego. Prego. Prego.